Tu sai esattamente che c'è qualcosa di sbagliato intorno a te. Ti senti come se tutto ciò fosse sbagliato. Hai come un chiodo fisso nella mente ed è per questo che hai passato tutto il tempo per cercare di dare una risposta a tutto ciò. Tu sai di che cosa sto parlando, vero? Di Matrix. Matrix è tutto ciò che è intorno a noi. Lo avverti quando accendi il televisore, quando vai al lavoro, quando paghi le tasse. Matrix è il mondo che ti è stato posto davanti agli occhi per nascondere la verità. È la domanda, Neo. È la domanda che ti ha spinto fin qui. Il nostro chiodo fisso. Che cos'è Matrix? Questo è il mondo che esiste oggi. è il mondo che ci sono tante. Hai, eh? Hai, hai. Tiên like, voi non è i bologg tentar di riparare. Di Matrix! Hai orecchè ho andato di cinza? Hai! Hai orecchè ho andato! Hai orecchè ho andato! Hai orecchè ho andato. Hai orecchè ho e giocchè ho andato! Hai orecchè ho andato. Hai orecchè ho andato a io. Grazie per la visione